Col 1-1 sicuramente è il ruolo di favoriti per la finale, spetta sicuramente alla Lazio. Il risultato non giusto per quello che si è visto in campo, per le occasioni che abbiamo avuto sotto tutti i punti di vista, però abbiamo affrontato una Lazio sicuramente che è una buonissima squadra, molto fisica, che non è sicuramente, c'è un motivo perché questo è il quindicesimo risultato utile consecutivo, è una squadra compatta che magari fa poco spettacolo, però è molto concreta. Da parte nostra e da parte mia sicuramente c'è la soddisfazione che nonostante tantissime assenze che poi sono anche aumentate, prima la partita perché Padovin ha avuto la febbre, doveva giocare, poi Bonucci ha avuto questo colpo al coach e ha dovuto uscire. Nonostante tutti questi cambiamenti, così come contro l'Udinese, ho avuto delle risposte importanti, a testimonianza che c'è un'organizzazione di gioco, c'è una mentalità, c'è voglia da parte di tutti di essere protagonisti e questo mi lascia a me sperare per tutto. Il secondo passaggio della Lazio qui allo stadio della Juventus, è cambiato qualcosa da 0-0 dell'andata di campionato? Ha visto una Lazio un po' diversa? Una Lazio, ripeto, sempre molto fisica, molto compatta, quando perde palla comunque ti trovi 10 giocatori sotto la linea della palla, quindi è difficile trovare spazi. Non la preoccupa per il campionato? No, 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 mi preoccupa assolutamente, mi preoccupa la Lazio, mi preoccupa il Napoli, mi preoccupa l'Inter, mi preoccupa il Milan, cioè rispettiamo tutti, è inevitabile che non abbiamo paura, però rispettiamo, abbiamo grande rispetto perché sappiamo che sono squadre che ci possono dare fastidio in campionato e poi martedì ci sarà il ritorno di questa semifinale. Mi auguro che vada avanti.